buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi finalmente dopo tanto tempo andiamo ad aprire questa degusta box siccome sto ancora aspettando quella di dicembre e quella di gennaio in cui siamo non so se è quella di gennaio o quella di dicembre apriamola insieme e scopriamolo riesco neanche ad aprire una sabina puoi tirare sulla faccia grazie allora vediamo un po cosa c'è dentro questa volta e soprattutto quale degusta box è quella di gennaio come potete vedere qui quindi stiamo ancora aspettando quella di dicembre ma nel frattempo vediamo che cosa c'è all'interno allora qui hanno mandato una cosa che è fuori da quello che che c'era forse per farsi perdonare che sto ancora aspettando quella di dicembre ovviamente non sono senza glutine sono i cioccoli della motta poi dentro c'è un un affare un volantino della lavazza guardavo se si vede poi c'è una bustina di zucchero di prova della zero della iridania zero poi c'è il volantino della parmalat dello zimil latte senza lattosio e del quello normale e il di plian diciamo delle caramelle riccola limone e mentolo e qui c'è uno sconto esclusivo e fa uno sconto del 20 per cento su tutti i nostri prodotti allora qui c'è lo zucchero della eridania sono 300 mini compresse e dolcificante bene visto che devo iniziare la dieta poi c'è la valla e sono capsule per la macchinetta noi non l'abbiamo ma le apriamo e il caffè che c'è dentro lo mettiamo nella caffettiera così lo possiamo utilizzare lo stesso poi wow i cookies sensation orea cream orea cream della milka sono cioccolatosi con le gotti di cioccolato dentro una crema al latte che vuoi poi una confezione da 250 ml di latte parmalat bontai linea normale e una confezione sempre da 250 ml però di zimil senza lattosio alta digeribilità vediamo che cos'è è il succo limpido di mela 100 per cento della achillea azienda montana vediamo un po se per caso c'è scritta un'indicazione tipo senza glutine sopra non c'è scritto niente puoi guardare anche tu lì no c'è scritto solo il succo di mela ok niente allora vabbè però in teoria il succo lo puoi poi ah 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 vedo delle mani che non devono entrare nella scala poi c'è la salsa pronta pizzutello ah dico sempre io della mutti gusto leggero poi le caramelle ricora queste qui azione glaciale limone mentolo sono senza zucchero e con estratto di foglie di stevia poi questi crostini con farina integrale ricco di fibre della buitoni e se sono buoni io me lo sento per gabriele maurizio c'è poco questa volta poi della lipton c'è il tè nero al melograno una confezione di brioche della bauli sono una novità più soffici e sfogliati classici ce ne sono dentro sei con crema con vaniglia del madagascar croissant con crema una pasticcera ottimo direi ottimo poi ci sono due barrettine good fruitella for you semi di chia ciliegie mirtilli rossi queste sono senza glutine ma gabriele non le può mangiare per questa qua perché con la ciliegia e sono vegan e poi c'è questa qui invece che sempre della fruitella semi di chia cocco e fave di cacao anche questa qui è senza glutine sono così e sono senza glutine ma non le prendo e poi ci sono le fette biscottate rigate ideali da spalmare anche queste qua sono proprio curiosi di assaggiarle perché sono una novità e chissà come sono si sono diverse da quelle normali oppure si sono uguali sono senza olio di palma e sono 315 grammi va bene adesso vi faccio vedere bene tutto quello che abbiamo trovato comunque sono molto soddisfatta e sono sicura anche i bambini saranno soddisfatti guardate quante cose ho trovato in questa meravigliosa box di gennaio volevo anche dirvi che vi lascerò qui sotto e qui in sovrimpressione il codice sconto dedicato a voi per avere uno sconto sulla prima box normalmente costano 15,99 euro ma grazie a questo codice sconto potrete pagare solo 9,99 euro io spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao 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 1, 2, 3, come on Come on, come on Ha!